Doveva avere un incontro con il sindaco già ieri in serata, invito declinato per problemi familiari, ma domani mattina Gian Pietro Manenti è atteso di nuova parma, qualcuno spera per il suo atto finale. Il pressing del sindaco, di giocatore delegale di FIGC e Lega è chiaro, obbligare il presidente Crociato a gettare la spugna, smettere con la storia dei bonifici in arrivo e portare i libri in tribunale. Un gesto di lucidità in una vicenda folle, anzi grottesca, se si pensa alle parole dell'ormai ex collaboratore di Manenti Fiorenzo Alborghetti, pronunciate il giorno della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà. Se l'ha fatto ed è arrivato qua, o è da TSO o da psichiatria o è una persona che ci crede e ha voglia. Trattamento psichiatrico o meno, le incognite sul numero uno del Parma restano tantissime, mentre lui continua a parlare di bonifici milionari. Dalla Slovenia rimbalza la notizia che Manenti non avrebbe nemmeno in tasca le poche centinaia di euro necessarie per l'acquisizione delle azioni della Mahbi Group in mano all'ex socia Isabella Camporesi. Lei si è defilata, ma la società non ha i soldi per completare l'atto notarile di passaggio delle quote. Eppure, con quelle quote in mano, il 50% della sua società avrebbe avuto Manenti l'ardire di presentarsi nella filiale della banca Refisen di Maribor, chiedendo, in cambio delle stesse quote, un prestito ponte di 15 milioni di euro per il Parma. Un istituto di credito, quello nella città montana slovena, che aveva già avuto contatti con Manenti grazie ai commercialisti Nevenka e Dusabremec di Nova Goriza, ma non è servito in questo caso a nulla, niente finanziamento. E così, mestamente, senza un euro in tasca, il presidente Crociato è rientrato in città. Ultimo suo auto ufficiale lo scorso 20 febbraio, giorno del Consiglio d'Amministrazione di eventi sportivi e Parma FC, quando si nega il telefono perché dice di essere impegnato nell'assemblea dei soci e poi, con una nota stampa, comunica esattamente il contrario, ovvero di aver dovuto rinviare quegli appuntamenti per le riunioni con sindaco e giocatori. Ieri l'ultimo rinvio, domani il giorno della verità e sperano i tifosi del Parma il primo gesto veramente razionale del presidente Crociato, ammettere di non poter andare avanti.